Medico! Oh mio Dio! Ma che è successo? Beth, direi di andare. Milioni di dollari di cocaina sono piovuti stamani dal cielo a Noxwin nel Tennessee. Ce n'è molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte. Cerco mia figlia. Il bosco è un posto pericoloso. Ehi, Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo magari? Un bel po' di cocaina è andata. Devi recuperarla. No, no, non mangiarla! Non mangiarla! Vediamo che effetto avrà su di lui. L'orso è strafatto di cocaina! Un orso si è fatto di cocaina! C'era un orso! Come scusa? Era incazzato! Ehi, non dire parolacce. Sei al sicuro? Gli orsi non si arrampicano? Certo che lo fanno! Oh, cazzo! È una di quelle cose che ti restano impresse per sempre. Un superpredatore. Fatto di cocaina. Fuori di testa. Amico, sei fottuto. Quell'orso è impazzito! Sparagli! Beh, più veloci! Andiamo. Che fortuna stare nella natura! Sparagli! 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 Grazie a tutti.